Mandate tutti a processo. Questa è la richiesta che parte dalla procura di Arezzo su uno dei filoni chiave sul crack di Banca Etruria, quello del falso improspetto che entra così nel vivo. La richiesta di rinvio a giudizio riguarda l'ex presidente Giuseppe Fornasari, l'ex direttore generale Luca Bronchi e l'ex dirigente David Canestri. Una richiesta che arriva a seguito della decisione di lasciare la competenza al tribunale Aretino. Il giudice Ilaria Cornetti nei giorni scorsi aveva infatti rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale presentata dall'avvocato Luca Fanfani, difensore di David Canestri. Era stato poi sempre il giudice Cornetti a disporre la missione di tutte le parti civili. Questa mattina infine era svolta con le richieste di processo per gli imputati. Secondo l'ipotesi dell'accusa, i risparmiatori al momento della sottoscrizione delle famigerate obbligazioni subordinate non sarebbero stati informati correttamente sulla reale situazione dell'istituto di credito. La banca, sempre secondo il pool dei magistrati che sostengono l'accusa guidato dal procuratore capo Roberto Rossi, non avrebbe inoltre fornito i dettagli e le nozioni fondamentali alla Consob al momento della richiesta di autorizzazione dell'emissione del collocamento dei bond subordinati, da qui l'ipotesi di reato di falso improspetto.